Saldi al via in quasi tutta Italia. Dopo l'anticipo della Basilicata e della Valle d'Aosta, oggi danno l'avvio al periodo di sconti tutte le altre regioni, con l'unica eccezione della Sicilia, dove le promozioni partiranno da domani. In base agli ultimi sondaggi sarà in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 2018. Compreranno più le donne che gli uomini, ma questi ultimi, soprattutto nel nord-est, spenderanno leggermente di più. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia, abituali, al contrario delle donne, che hanno intenzione di cercare il prezzo più conveniente presso altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online, circa il 15%, canale preferito soprattutto nelle regioni del nord. Questi alcuni dati che emergono da un'indagine realizzata da ConfCommerce o imprese per l'Italia, conforme a TreSearch. Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento, calzature, accessori e bianchieria intima. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di ConfCommercio Nazionale, ogni famiglia spenderà in media 331 euro. Il budget a persona sarà di 143 euro per un giro d'affari complessivo di 5,2 miliardi di euro. La spesa per gli acquisti in saldo per valore, afferma Maria Cocciolo, direttore di ConfCommercio Cosenza, sarà leggermente inferiore a quella dell'anno scorso, ma in linea con il momento. Di certo, anche quest'anno, non assisteremo alla corsa agli acquisti dopo un Natale ancora sospeso tra una crisi che sembra volgere al termine e una ripresa ancora debole. Le vendite di fine stagione saranno sempre una straordinaria opportunità per i consumatori, ma per le imprese continuano a non essere sufficienti.